Quando io sto suonando una campana, armonica, quello che sto sentendo è la chiave, una chiave armonica che ci dà un'informazione di vibrazione che esiste da quando il mondo è mondo, dall'inizio di tutto, perché la vibrazione armonica è praticamente il modo di ordinarsi della natura. Ok, quando io sento una campana con questa informazione, al di là di sentire un bel suono, che ci piace tanto, sto collegandomi con una chiave che mi permette di collegare con una matrice dell'armonia dell'universo. Per quello è importante pensare che quando io sto pensando nella mia vita quotidiana, diciamo, normalmente si penso che a volte mi sposto del mio punto d'equilibrio, a volte mi tolgo della mia armonia, posso ritrovare la mia armonia cercando di collegare con questo tipo di vibrazione. E questo lo facciamo. Evidentemente questo ha uno scopo terapeutico, per quello nella nostra scuola, nel centro di terapia del suono, e studi armonici, sono due scopi che abbiamo nella scuola, e ha diventato come una tecnica terapeutica, e facciamo formazione su questo, e serve per aiutare le persone a ritrovare la sua connessione con l'armonia. Grazie a tutti.